Rispetto per l'ambiente e tecnologia all'avanguardia, ma sempre grandi prestazioni. Queste le premesse del marchio BMW per il 2014. Scopriamone tutti i dettagli con il nostro ospite in studio. Grossa novità questa sera a Safe Drive, andiamo a guidare, a provare, a raccontarvi una vettura del futuro, ma già disponibile in questi giorni nelle concessionarie. Mi riferisco a BMW i3, ma innanzitutto parto da Gredito Ospite. Bentornato Alessandro Tofanin. Grazie, buonasera a tutti. Ciao Alessandro, ricordiamo responsabile comunicazione prodotto di BMW Italia e come dicevo, un'altra regina dello studio, alla mia sinistra, la i3, una vettura completamente nuova in casa BMW, sia dal punto di vista tecnologico-meccanico, ma anche nel design. E prima di iniziare a parlare della vettura, volevo farvi vedere subito una peculiarità di quest'auto. Prima di entrare nel concetto tecnologico, intanto la camera mi segue, una monovolume, e da questo punto di vista, anche se con delle linee abbastanza decise, un po' informali, direi una monovolume classica, ma con questa apertura, con queste porte a libro, la totale assenza del montante centrale che permette un facile agio per salire in un abitacolo, in una vettura che ha nelle dimensioni massime un'altra peculiarità, dunque un'auto compatta, un'auto indubbiamente da città, ma non solo. Dunque Alessandro, questa vettura è completamente elettrica. Esatto, l'è inquadrata alla perfezione. L'auto è una rivoluzione in casa BMW e nel campo automobilistico. È un'auto completamente elettrica, che nasce per essere elettrica. Quindi le particolarità strane che hai visto prima, derivano dal fatto che la vettura è stata concepita, fin dalla progettazione e dall'idea, per essere mossa da un motore elettrico. Quindi non solo la propulsione è differente, ma anche come è costruita. Quindi è tutta in materiale leggero, la parte inferiore dove occupa il motore e la batteria è tutta in alluminio, mentre la parte superiore dove si siedono poi gli occupanti del veicolo è tutta in fibra di carbonio. Una particolarità delle vetture elettriche è il fatto che hanno una batteria di grosse e generose dimensioni per portarsi dietro l'elettricità che serve per il motore. Queste batterie, tradizionalmente, se le auto non sono costruite apposta, sono un po' distribuite nel veicolo e questo porta a una distribuzione di pesi non adatta. In questo caso è stato ricavato nel pianale del veicolo una zona rettangolare, precisa e regolare dove all'interno ci sono le batterie. A questo punto sono in una posizione più bassa possibile del veicolo, quindi abbassa il baricento e garantisce una dinamica di guida eccellente e sono in una zona protetta del veicolo perché sono all'interno del pianale e quindi anche in caso di crash sono in una zona completamente protetta. Finora l'elettrico spaventa un po' nel medio raggio, in città è probabilmente il motore vincente però quando ci si allunga fuori dal classico tragitto caso ufficio diventa una macchina poco utilizzabile, finora. Una piccola premessa, quando abbiamo presentato i concept di questo veicolo l'abbiamo subito chiamata Mega City Vehicle perché è costruita e concepita per un uso urbano, quindi effettivamente l'elettrico al momento ha una sua connotazione soprattutto in uso in città tendenzialmente e quindi con autonomie che apparentemente non sono elevatissime ma sono più che sufficienti per un uso cittadino. In questo caso parliamo di un veicolo che in sola modalità elettrica ha un'autonomia dai 130 ai 160 km che sono ben al di sopra delle medie urbane che fa qualsiasi utilizzatore di auto in città e con, questo è un aspetto interessante, con prestazioni di tutto rilievo perché è una vettura che adesso parlare di 0-100 è un po' limitativo però è poco più di 7 secondi in un 0-100 e soprattutto ha le caratteristiche di un motore elettrico quindi con la coppia subito in basso e quindi con accelerazione del semaforo veramente da super sportiva. Inoltre è disponibile anche una versione con range extender che tra l'altro è quella che abbiamo qua in studio che abbina al motore elettrico anche un piccolo motore bicilindrico a benzina che permette di aumentare le autonomie perché va a mantenere la carica della batteria. Come abbiamo potuto ascoltare i3 è un progetto completamente nuovo, c'è molta tecnologia sicuramente la tecnologia in questo momento ha dei costi, costi che mi sa verranno sfalmati un po' sull'utilizzatore finale partiamo da una considerazione, il prezzo e più o meno quando avete stabilito viene superato quel gap economico rispetto a una vettura di pari prestazioni che magari costa qualche mille euro in meno. La vettura ha un costo al cliente che parte da poco più di 36 mila euro per la versione pura elettrica e di 41 mila euro circa per la versione invece con range extender però questa è una vettura in realtà che lavora su dei concetti e degli aspetti molto diversi uno è quello tecnologico, fibre di carbonio, tecnologia l'altro è quello di ecosostenibilità perché la vettura va proprio a cercare una tipologia di cliente che cerca un nuovo aspetto premium che è l'attenzione all'ambiente, l'attenzione ai materiali l'attenzione a un nuovo stile di vita. Alessandro, mentre parlavi prima delle prestazioni assolute, questo 0-100 in 7 secondi da Gran Sportiva mi cadeva l'occhio che nella nostra scenografia in tempi non sospetti avevamo anticipato una BMW elettrica I8 Concept che allora si chiamava Concept ma a breve non sarà più Concept. In effetti è un caso, adesso no, quella vettura che vediamo alle spalle in effetti è una vettura che vedrà la luce nel corso di quest'anno parliamo della I8, l'I8 in questo caso è un ibedo plug-in quindi abbina un motore elettrico, un motore termico ogni motore spinge su una sala differente e insieme garantiscono prestazioni eccezionali. Ma poi arriverà la grossa novità che se vuoi ribalta un po' i classici schemi di BMW una monovolume compatta più o meno di queste misure a trazione anteriore svelaci qualcosa. Ti riferisci all'Active Tourer è un nuovo concetto di veicolo che BMW sta sviluppando in questo caso parliamo di una vettura leggermente più grande di questa in realtà però è una vettura che è studiata per garantire spazio all'interno del veicolo quindi per un uso anche extra lavoro quindi per vita all'aria aperta per i sportivi e quindi è un veicolo che garantisce capacità di carico abitabilità all'interno e per questo motivo sarà sviluppata con una forma che la chiamiamo monovolume comunque una forma che garantisce il maggior spazio all'interno e con una trazione che per la prima volta passa all'anteriore proprio per togliere il tunnel e garantire un pianale piano all'interno e ridurre la lunghezza della parte frontale del muso del veicolo quindi concentrarsi più verso l'interno quindi è un tipo di veicolo completamente nuovo per noi e questo più o meno a metà dell'anno e con questo è tutto volevo ancora ringraziarti Alessandro grazie grazie a te grazie di averci portato questa vettura io concludo con una battuta ma che non è poi tanto una battuta fate attenzione perché le vetture elettriche stanno diventando in numero sempre maggiore stanno crescendo all'interno dei nostri centri urbani non solo dunque attenzione quando attraversate la strada perché queste vetture oltre ad un inquinare sono completamente silenziose perciò non solo se viaggiate con le cuffie con la musica nelle orecchie ma anche nel camminato normale fate sempre attenzione può arrivare un'auto elettrica